La LIPO è in BirdLife International, per cui è una delle oltre 100 associazioni che BirdLife mette insieme, che si occupa in tante forme di quel che riguarda l'ambiente naturale e la fauna selvatica. Essendo gli uccelli un simbolo della salute dell'ambiente, per noi sono importantissimi. Abbiamo numerose oasi, abbiamo oltre una decina di centri di recupero. Le difficoltà sono soprattutto di carattere economico, perché pur essendo la fauna selvatica considerata, vista dalla legge, come patrimonio indisponibile dello Stato, per cui lo Stato o i suoi apparati dovrebbero essere loro volendo occuparsi di salvaguardare la fauna selvatica. Invece sono le associazioni ambientaliste che fanno queste. C'è ancora una certa carenza di sensibilità da parte politica, che dovrebbe essere quella che dovrebbe dirigere, gestire e capire. Siamo partiti da 100 animali all'anno e siamo arrivati a superare i 1200 o 1500, dipende dalle stagioni. Vuol dire che la gente comune è sempre più sensibile e ci le porta perché vogliono salvare questi animali. Noi non siamo in grado di andare a raccogliere gli animali, gli animali devono essere portati da noi. Non ce l'abbiamo le risorse di questo tipo, dove noi mettiamo tutte le nostre forze e tutta la nostra capacità professionale è cercare di salvare esemplari di quelle specie che sono più a rischio, che sono più rare, chiaramente. Direi dei consigli obbligatori a cui veramente preghiamo di attenerci il più possibile. Parliamo del periodo più critico che è la primavera inoltrata, cioè il periodo di maggio-giugno. Per la natura, per gli animali selvatici, è il periodo riproduttivo, soprattutto gli uccelli. Una volta che hanno raggiunto una certa dimensione, anche se non sono ancora abili al volo, escono dal nido, cominciano a gironzolare intorno, ma quello che possono insegnare ai genitori, nessun umano è in grado di farlo. Per cui portarli via, se non sono in difficoltà fisica o meno, è sbagliato. Allora, un conto ai genitori che gli insegnano a che cosa stare alla larga è che se li portano noi, riusciamo certo ad alimentarli e farli crescere, ma nessun umano è in grado di insegnargli quello che gli insegnano i genitori, ripeto. Se invece si trova un animale veramente in difficoltà, che è ferito o meno, la cosa più semplice e meno traumatica è prenderlo e metterlo in una scatola di cartone. Si chiude la scatola con qualche buchetto per far passare l'aria e in modo che anche, diciamo, estando al buio o quasi, si tranquillizzano. Il prendere in mano un animale selvatico, c'è una scarica di adrenalina fortissima, per cui se già hanno dei problemi fisici, non è raro che poi muoiano proprio perché c'è questo eccesso di adrenalina. In ogni caso chiediamo anche questo, prima di prenderlo, fate una telefonata, spiegandoci qual è la condizione in modo che noi possiamo dare dei consigli preventivi e portarcelo qui da noi. Dopodiché, con l'esperienza che abbiamo acquisito e con il veterinario che c'è, facciamo tutto il possibile per salvare gli animali. Grazie per la visione!